E' tempo di addi in casa Napoli, due in particolar modo, saluti non a sorpresa perché le partenze del DS Cristiano Giuntoli e del capo marketing Alessandro Formisano già erano state annunciate da un po'. Cristiano Giuntoli è ufficialmente svincolato dal Napoli e potrà diventare presto il responsabile dell'area sportiva della Juventus. L'accordo con il presidente Aurelio De Laurenti per uscire dal contratto che lo legava al Napoli fino al 2024 è stato raggiunto e la stessa società partenopea ne ha annunciato l'addio con una nota sui social. Il calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli otto anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra, così la nota della società campione d'Italia. Il club ha scritto invece per Alessandro Formisano che ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nel Napoli. Proseguono intanto le indagini riguardo il furto in casa del calciatore del Napoli, Piotr Zielischi. Portatevi alcune borse di marca, gioielli e monili e le chiavi dell'auto, poi ritrovata successivamente. Al momento del furto Zielischi non era nell'abitazione.